Ciao a tutti, il narcisista è invidioso? Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Nonché iscriviti al nuovo canale, Felicità Benessere, di cui ti posto i link in descrizione. Allora, il narcisista non solo è invidioso, è molto invidioso. È forse la persona più invidiosa di questo mondo. L'invidia, che rappresenta rabbia compressa, è veramente la cosa più invidiosa, la cosa più forte che ha. È una caratteristica fondamentale dei narcisisti. Veramente, i narcisisti tendono ad essere estremamente, estremamente invidiosi. Il narcisista ha una visione, diciamo così, distorta del mondo, no? E vede i successi degli altri come una negazione, diciamo così, della possibilità sua di avere successo. Non può tollerare il successo di un amico, il successo del partner, perché il successo dell'altra persona è come se fosse una rappresentazione delle sue mancanze. E spesso il narcisista agisce, soprattutto per distruggere l'altro, soprattutto il narcisista perverso ha questo modo qua, modus operandi. E, diciamo, anche, questo può trasparire anche già, l'invidia è un carattere che può trasparire anche nella prima fase di love bombing. Quindi, un modo per capire se una persona è narcisista o meno, è proprio quello di guardare la fase di love bombing, perché poi dopo viene fuori, diciamo, in modo massiccio. Ma anche in questa fase, perché diciamo che tutto ruota attorno al suo ego. Il narcisista è concentrato fondamentalmente sul suo ego e vive per il suo ego. Quindi, ci sono tutta una serie di segnali di invidia che il narcisista mette in atto, perché qualunque cosa una persona faccia, un partner, un amico, una persona faccia, lui non dà la minima importanza. Anzi, dice bene, bravo, potete anche fare di meglio. Però, di fatto, sfoggia il suo lato più competitivo. Questo è un suo bisogno forte, costante, sempre presente di avere bisogno di conferma, avere bisogno di dimostrare qualcosa. Il narcisista, diciamo, cercherà di svalutare in qualche modo i risultati ottenuti dagli altri, dal partner. E quindi l'invidia per il narcisista è veramente uno dei tratti che fa capire, come dire, è la prova del nove che ha anche a che fare con una persona narcisista. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Iscriviti al canale e iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto i link in descrizione. Ciao a tutti!